Concludiamo oggi l'ultima di tre settimane durante le quali abbiamo presentato le agenzie europee, ossia strumenti, organismi che operano in ambiti settoriali. Abbiamo visto che queste agenzie europee non sono concentrate tutte a Bruxelles ma sono presenti ed operano nel territorio di vari paesi dell'Unione Europea. Questo è un aspetto certamente positivo in quanto consente oltretutto di avere da parte dei cittadini una maggiore percezione della vicinanza delle istituzioni a loro. Nell'editoriale di domenica scorsa ci siamo occupati della presenza pubblica del processo di integrazione europea, della presenza pubblica dell'attività delle istituzioni europee fra i cittadini. Evidentemente questo è un aspetto molto importante perché abbiamo sempre sottolineato e si dice in ampia misura che bisogna creare condizioni tali per cui i cittadini avvertano le istituzioni europee, le istituzioni dell'europea più vicine a loro, che non vi sia un eccessivo distacco. A riguardo oggi vorrei compiere una breve riflessione per quanto riguarda l'atteggiamento dei giovani nei confronti dell'Europa e nei confronti delle istituzioni europee. Durante le nostre puntate quotidiane di cui Europa abbiamo avuto varie richieste di giovani i quali chiedono di conoscere, chiedono soprattutto di visitare le istituzioni europee oppure chiedono anche di compiere esperienze di lavoro presso una o l'altra delle istituzioni europee. Questa richiesta evidentemente corrisponde ad una esigenza reale e operativa ma anche evidenzia la necessità da parte dei giovani di capire meglio quello che sta succedendo in Europa, di conoscere quali sono i meccanismi delle istituzioni europee di avvicinarsi a questa Europa nella quale i giovani stanno ponendo molte speranze e nella quale vogliono avere molta fiducia. Va detto a riguardo che in questi ultimi tempi abbiamo avuto il precipitare, come tutti sappiamo, di eventi straordinari. Iniziamo dal 1989 con la caduta del muro di Berlino, abbiamo avviato l'ampliamento dell'Unione Europea verso l'Est, realtà che avremo veramente in termini concreti il primo maggio prossimo. Abbiamo avuto l'11 settembre 2001 con la tragedia delle Torri Gemelle, recentemente purtroppo abbiamo avuto l'altra tragedia di Madrid dell'11 marzo. Vi sono stati eventi straordinari che hanno disorientato, che hanno confuso tutti noi ma soprattutto anche i giovani. Abbiamo avuto la guerra in Iraq con la divisione che vi è stata fra America e Europa, con paesi europei che hanno assunto posizioni diverse. Evidentemente tutti i fatti di fronte i quali i giovani si pongono in termini molto riflessivi per pensare al loro futuro. Questa esigenza da parte dei giovani di conoscere, di capire meglio l'Europa evidentemente rappresenta un fatto positivo. Sappiamo che al giorno d'oggi l'Europa, le istituzioni europee offrono ai giovani molte possibilità, la possibilità di viaggiare per compiere esperienze di studio, il che rappresenta, costituisce un elemento di grande importanza per il loro futuro. Abbiamo, abbediamo molti giovani i quali viaggiano in Europa, abbiamo giovani i quali compiono visite di studio ma compiono anche pellegrinaggi. Molti giovani ogni anno vanno a Santiago di Compostella in Spagna, luogo straordinariamente importante, simbolico per quanto riguarda il cristianesimo nell'Europa e per quanto riguarda anche evidentemente veri valori che interessano l'intero vecchio continente. A riguardo dobbiamo ricordare quello che diceva Goethe, l'Europa è stata creata camminando, quell'Europa, diceva Goethe, la quale ha la sua madrelingua nel cristianesimo e parlando del cristianesimo, prescindendo dalle convinzioni religiose di ognuno, non possiamo non riconoscere che il cristianesimo rappresenta una componente fondamentale, che le radici cristiane dell'Europa sono di fondamentale importanza anche per ricavare da questa realtà valori per il nostro futuro. Dobbiamo dare molto incoraggiamento a questi giovani, i quali si occupano in maniera molto attiva dell'Europa, per capire questa Europa, per vedere in che misura l'Europa può garantire condizioni di sicurezza e di pace, questo certamente è molto importante, dobbiamo dare garanzie e dobbiamo avere grande speranza, dobbiamo soprattutto pensare e voler bene a questa Europa, perché nonostante le tragedie che abbiamo visto, nonostante le difficoltà che vediamo ancora oggi, nonostante l'emergere e riemergere di egoismi nazionali, l'Europa trova sempre in sé le forze, le energie, le radici, i valori per poter avere una ripresa. Grazie. Grazie a tutti.